Educare e accompagnare, questo è il tema del convegno catechistico che si è svolto qualche giorno fa a Manfredonia, lo dicevamo anche nella nostra prima parte, ed è un tema che riguarda però tutta la Chiesa, la Chiesa universale, perché il tema dell'educazione è una sfida educativa colta da diversi ambiti comunque, non stiamo parlando soltanto di scuola, non stiamo parlando soltanto di parrocchia e di famiglia. La Chiesa è madre e quindi come madre ha come compito primario quello di educare i suoi figli, cioè quello di far uscire da tutti coloro che incontra il buono, che naturalmente è presente dentro di noi, ovviamente tanti condizionamenti bisogna evitare, tante cattiverie bisogna mettere da parte, cioè bisogna fare questo lavoro continuo di cesellatura, perché ecco da ciascuno di noi può uscire l'immagine bella che il Signore ha impresso dentro, la sua immagine e la sua somiglianza. Mi viene un po' in mente la storia della realizzazione della pietà da parte di Michelangelo, lui diceva che nel blocco di marmo già è presente l'immagine, lo scultore non deve far altro che piano piano, piano piano tirarla fuori con lo scalpello che ovviamente è simbolo di fatica, è simbolo anche di dolore certe volte, perché il buono da noi viene fuori anche e soprattutto nei momenti in cui ci sentiamo più provati, più sotto scacco della sofferenza, del dolore. Ecco, anche allora viene fuori l'immagine bella che Dio ha impresso dentro di noi. Immaginiamoci così, come un unico blocco di pietra in cui dentro c'è la bellezza. Il processo dell'educazione fa proprio risaltare questa bellezza originaria che Dio ha voluto e vuole per ciascuno di noi. Vero, bella questa immagine. Allora c'è stato un inizio di questo convegno, una presentazione e noi ascoltiamo uno stralcio di quello che abbiamo vissuto. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. L'opera di misericordia più grande che siamo chiamati a fare è quella di offrire ai fratelli, alle sorelle, al mondo, al mondo di oggi, alle generazioni, l'alimento più importante. È la prima opera di misericordia del dare da mangiare e dare l'elemento, il cibo che è Cristo Signor, la vita di Cristo. Questa è il pane più importante da offrire. È la sete più importante da dissetare. Ecco, essere catechisti, essere educatori e compiere questa grande, grandissima opera di misericordia che sfama e disseta attraverso l'offerta di Gesù, pane di vita e acqua che alimenta. Questa sala, così piena, così nutrita, i vostri volti, ecco, non posso che confermare che c'è diligenza, ma non solo nel presiedere, ecco, nell'armonia delle nostre vite e della vita della nostra Chiesa locale che è la Chiesa di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotogno. C'è sempre un gran numero di partecipanti nella nostra diocesi a questi eventi e a questi incontri ed è bello, insomma, vuol dire che c'è tanto frutto da raccogliere, oltre che da seminare. Vuol dire che il popolo è vivo, il popolo è vivo e risponde a questa sfida grande che è l'educazione. Non possiamo fare a meno di continuare a formarci, non possiamo mai sentirci soddisfatti di quello che abbiamo. Dentro di noi c'è un fuoco che arde e che deve rispondere necessariamente a tutti i bisogni e alle necessità che vengono fuori dal popolo di Dio e noi dobbiamo avere gli strumenti per rispondere in una maniera competente e adeguata. Ecco perché l'organizzazione di questi eventi. È vero. Mi fai pensare anche, insomma, al fatto che non ci si deve mai sentire arrivati, ma proprio perché l'educazione è un cammino e riprendiamo anche l'icona biblica, no? Dei discepoli di Emmaus. Dei discepoli di Emmaus. Noi riusciamo a riconoscere il Signore solamente quando stiamo insieme, quando lo vediamo e quando Lui spezza il pane per noi. Il pane è quello eucaristico, è vero, è la simbologia più adatta per parlare dell'eucaristia, però è anche il pane della parola. E parola, sappiamo, non è solamente la Bibbia, quindi è la parola di Dio scritta, codificata, ma è anche ciò che l'ispirazione di Dio mette nel cuore di ciascuno. È parola di Dio, anche la presenza di una persona buona che ci viene a dire delle cose. la presenza di un amico che ci viene a consolare, la presenza di un relatore durante un convegno che ci viene a dare degli spunti di riflessione che ci fanno da stimoli per un cammino sempre più fecondo, sempre migliore. È vero. Intanto in quella giornata abbiamo anche raccolto lì, durante le pause, alcune riflessioni proprio dei protagonisti della serata. Ascoltiamo. Allora, visto che è nel campo da circa dieci anni, quali consigli dà a chi vuole intraprendere questa strada, la strada dell'educazione? Il primo consiglio penso che sia capacità di gestire un po' le frustrazioni che l'educazione porta in sé e quindi lavorare sulle motivazioni che spingono all'impegno educativo. penso che la motivazione fondamentale per l'educatore nella fede poi sia trasmettere il desiderio di lasciare incontrare Gesù attraverso la propria vita e di vivere pienamente tutte le bellezze che la vita quotidiana porta in sé e riuscire anche a integrare le difficoltà, le sofferenze appunto, le frustrazioni che delle volte la vita stessa ci riserva. Penso che sia un'avventura è una missione l'educazione. E le criticità delle nuove generazioni invece quali sono? Penso che la criticità più grande vada individuata proprio nella sfera relazionale ed è lì che noi educatori dovremmo investire tutta la nostra potenzialità, relazioni sincere, vere, limpide attraverso le quali far passare la freschezza del Vangelo che ancora parla alla vita dei ragazzi. Un'ultima domanda, quanta percentuale di cuore e quanta percentuale di mente ci vuole nell'educatore? Beh, io direi se la fede è un atto ragionevole che mette accordo mente e cuore lo è ancora di più l'educazione. Grazie. Allora, il Vangelo si realizza nella nostra vita quando siamo affascinati da Gesù, tanto da voler essere come lui. Un buon educatore pare che abbia compiuto la sua opera nel momento in cui l'educando, il giovane che ha con lui nel cammino, alla fine dice... Ne fa a meno. Credo che la funzione dell'educatore e di tutte le professioni simili, dall'insegnante al catechista, è quello di diventare inutili, come anche i genitori, mamma e papà. Si può dire di aver realizzato generativamente la propria funzione e la propria vocazione quando non si serve più. In qualche modo Gesù lo ha anche detto, perché c'è un bel passaggio del Vangelo dove Gesù afferma quando avete fatto tutto, dite siamo servi inutili. Ora questo è un riconoscimento, a mio giudizio, di aver compiuto la propria vocazione, di essere diventati inutili e quindi permettere veramente all'altro o all'altra di essere adulto e capace di camminare con libertà e farsi una storia ed una strada e quindi incidere sul mondo. In questo cammino ci pare di aver capito che viene elogiata la lentezza. Se si affretta un buon educatore vuol dire che deve cambiare mestiere? La fretta è una cattiva consigliera sempre, anche se purtroppo la nostra società è una società fatta di fretta, fatta di continui cambiamenti e si vuole un tempo sempre più veloce. Io ricordo che avevo letto, ma parlo da giovane prete, un'intervista che avevano fatto ad un guru che è arrivato dall'India all'aeroporto di Ittruc a Londra e gli chiesero ma che impressioni ha, come le sembra la nostra città e il nostro ambiente e rispose mi sembra che qui il tempo vada più veloce della vita. Non è così, la vita ha bisogno invece di essere gustata, di essere assaporata momento per momento, attimo per attimo e quindi in qualche modo è l'elogio della lentezza più che l'elogio della velocità. Grazie. Prego. Insomma, un tema vastissimo ma sicuramente ci sono tanti punti in cui ci possiamo soffermare perché tante poi sono le criticità oggi nella società per quanto riguarda l'educazione. Molto spesso i figli sono abbandonati dagli stessi genitori per diversi motivi, ognuno ha da fare, si corre, quindi insomma come si può poi subentrare in questo ambito da parte di chi è fuori? Beh, certamente le sfide sono tante e una delle tante sfide che anche noi sentiamo come educatore è quello di entrare nella vita degli altri, più che altro di chiedere permesso di entrare nella vita degli altri, adesso purtroppo è come se ognuno vivesse imprigionato all'interno di una corazza, quindi si fa molta fatica a parlare di sé, si fa molta fatica a condividere quello che si sente, quello che si ha, ognuno è rinchiuso nel guscio del proprio egoismo e magari lo fa anche inconsapevolmente, se da un lato c'è il desiderio di sgusciare, di uscire da questa corazza, ecco dall'altro lato ci si sente protetti, ci si sente comodi e quindi si fa un po' di difficoltà a iniziare questo esodo. Però proprio questo è richiesto all'educatore, di ascoltare chi si ha di fronte, perché molto spesso noi tendiamo a parlare, noi gli educatori lo fanno, a dire qualcosa di nuovo per catturare l'attenzione, per attirare più giovani possibili, perché anche quello poi è un problema, siamo molto presi dal numero, se c'è una grande quantità di giovani davanti vuol dire che già mezzo successo lo abbiamo avuto, in realtà no, non è proprio così. No, non contano i numeri, questo è anche il titolo di un bellissimo libro che qualche anno fa pubblicò Padre Amedeo Cencini, che è uno psicologo, uno psicoterapeuta che si occupa proprio di formazione, anche nell'ambito vocazionale, non contano i numeri, anche noi dobbiamo uscire fuori da questa tentazione che già Davide aveva vissuto. Il più grande peccato di Davide non è stato l'adulterio con Bezzabea, ma è stato il censimento, è stato il censimento, il voler contare le forze e non piuttosto contare sulla forza di Dio che si manifestava anche attraverso Davide in quella situazione, è lì Dio che tra virgolette punisce. Quando sentiamo e cediamo alla tentazione di contarci, perché così ovviamente ci sentiamo più forti, ci sentiamo più gratificati, invece non è così. Il primo servizio che noi dobbiamo dare agli altri è proprio quello dell'ascolto. La gente ha sete di ascolto. Io nel mio Ministero di Prete ne percepisco l'importanza nelle confessioni. La gente ha bisogno di essere ascoltata e quindi da parte nostra servizio di ascolto, ma anche servizio alla verità soprattutto. Essere collaboratori della verità, ci ricorda San Paolo. Innanzitutto siamo chiamati a dare agli altri come educatori la verità di quello che noi siamo, senza maschere, senza pregiudizi e senza nemmeno troppe aspettative. Come dice il Vescovo, ecco, nelle sue lettere pastorali, Padre Franco, un seminatore ha fatto il suo buon lavoro quando alla sera ritorna a casa con il sacco vuoto, a prescindere dal terreno che ha incontrato. Il seminatore semina, quindi senza stare a badare alle spese o agli incentivi o ad altro. Il seminatore semina e questo è il suo lavoro. Anche noi dobbiamo fare così, essere trasparenti noi stessi per dare anche trasparenza agli altri. Potrebbero essere alcune delle caratteristiche del buon educatore o accompagnatore, insomma, stima, rispetto, gentilezza e ottimismo. La gentilezza, è vero. Questo è un altro tratto che dobbiamo recuperare anche nel nostro essere testimoni, nel nostro essere testimoni cristiani. Bello, eh? Ci fermiamo un attimo. Tanti sono i momenti vissuti quella sera durante il convegno catechistico e tanti sono gli interessi di chi è sul palcoscenico, sia come educatore, ma anche chi è genitore, perché poi alla fine, insomma, i primi ad educare sono loro. Siamo tutti accomunati da questa vocazione. Innanzitutto i genitori, che devono dare ai propri figli questa testimonianza di una vita buona, improntata dai valori alti. L'educazione è una tradizione, no? Quindi si trasmette di padre in figlio, di generazione in generazione. È guai se non fosse così. Però è una tradizione positiva. Però ci sono anche delle tradizioni negative, perché è ovvio che i figli sono come delle spugne, assorbono tutto quello che dall'ambiente gli viene, di bene e di male. Quindi dobbiamo stare molto attenti anche noi a usare degli stili buoni, un metodo di comunicazione buono, delle parole buone per purificare il mondo, per fare un po' da restitutori di ossigeno. Mi viene in mente l'immagine dei moderni deumidificatori, no? Prendono l'umidità, prendono l'anidride. Cioè hai già detto questa. Sì, forse sì, è vero. Ricorda adesso. Restituire una boccata d'ossigeno. Forse questo compito, questa vocazione spetta anche a noi come cristiani, insomma. Prima parlavamo della dimensione del tempo, può essere che chi affretta non debba fare l'educatore? O l'educatore è qualcosa di anche in auto, insomma, comunque ti viene spontaneo? Penso sia una controtestimonianza, una vita di fretta. A me non piacciono personalmente le città frettolose, quelle che vanno sempre di corsa, che rincorrono, si rincorrono. Quindi può essere una controindicazione, ecco, chi è sempre in ansia, chi non ha tempo, perché comunque l'educazione richiede tempo, richiede responsabilità, richiede calma. Secondo me sì, può essere una forte controindicazione, anzi può sortire un effetto contrario a quello che noi speriamo in un processo educativo. L'educazione ha bisogno di tempo. Quando si cava fuori dagli altri il buono che c'è in loro, come dicevo prima, ma di fretta, si rischia quasi di strapparlo. Ma la prima attenzione educativa che secondo noi dobbiamo avere è proprio il rispetto dei tempi, che è il rispetto della maturazione di ciascuno. Il giardino della vita, il giardino della chiesa è fatto di tanti alberi. Ciascuno fiorisce a suo tempo, ciascuno porta frutti a suo tempo. Non possiamo pretendere che ci siano arance a giugno o a luglio, dobbiamo aspettare l'inverno. Dobbiamo aspettare l'inverno, il che non è sempre qualcosa di negativo, perché anche in inverno ci sono frutti buoni. Poi ci torniamo magari sulla dimensione del tempo. È presente con la sua relazione Don Salvatore Soreca, membro dell'Ufficio Catechistico Nazionale, che ha fatto un interessantissimo discorso e l'attenzione, insomma, puntata sui suoi consigli, su quella che è la sua esperienza e ovviamente poi insomma da lì si prendono tutti i suggerimenti validi per andare avanti e sempre meglio. Ovviamente, ognuno prende il buono che gli serve, che gli serve. Vediamo. Storia di una lumaca che scoprì l'importanza della lentezza. Attraverso tre quadri tratti da questa favola, proverò appunto a entrare e analizzare il binomio educazione e accompagnamento. Iniziamo dalla definizione del primo elemento, il verbo accompagnare. Lascio anche l'immagine così se qualcuno volesse prendere questa favola può anche avere, come dire, da un punto di vista visivo la copertina della favola, una copertina quella più famosa di una pubblicazione più famosa. Il verbo accompagnare deriva dal sostantivo compagno, che in latino suona così, companis. Il compagno è colui che letteralmente mangia il pane con me, condivide una cosa di essenziale con me. Si tratta quindi di una vertù dell'educatore, quindi anche di un'attenzione dell'educare, che facendosi accanto a colui che è accompagnato desidera condividerne la vita percorrendo un tratto di strada insieme. È questa lumaca che decide di capire perché è lenta e qual è il suo nome. Entra, prende un viaggio che la porta lontano dal suo posto e in questo viaggio fa incontra dei soggetti, incontra altri animali ai quali chiede, pone queste due domande che un po' orientano il suo cercare. Il primo incontro che fa è quello di un gufo. Entriamo un po' in questo dialogo che è un dialogo educativo, se volete, perché c'è una richiesta fondamentale che tocca la vita della lumaca, c'è una richiesta fatta a un'altra persona, in questo caso appunto il gufo, a cui si chiede motivo di ciò che spinge la ricerca. E allora vediamo un po'. Prima cosa che notiamo, deve essere evidente che l'essenziale della fede che noi comunichiamo deve toccare l'essenziale della vita di colui che riceve la nostra comunicazione e con noi fa un'esperienza di fede. Una virtù invece educativa che preludio poi al secondo quadro che vi propongo è la lentezza. Ed ecco qui iniziamo un po' anche a comprendere il senso di questa favola. L'educatore e paziente fa sua la virtù educativa della lentezza. Non domina lo spazio relazionale, ma vive con tutta la sua esperienza il processo di accompagnamento che sorge dal desiderio del ragazzo di sentirsi accompagnato. Vedete, molto spesso quale può essere una tentazione educativa dietro cui si nasconde la fretta. Per esempio la tentazione del programma. Devo realizzare necessariamente questa cosa che ritengo e non realizzarlo mi porta a una frustrazione che non riesco a gestire. Quindi vado, macino contenuti, macino esperienze senza accorgermi che forse ciò che propongo non sta incontrando realmente le esigenze vitali di coloro a cui io propongo. Quindi ci sta che dobbiamo fermarci un attimo delle volte. Dobbiamo un attimo a metterci ad ascoltare. E solo chi accetta di essere lento, cioè di abitare uno spazio relazionale con calma, può intuire delle volte, neanche sentirsi dire, perché non è detto che lo sentiamo dire da loro, da chi educhiamo, ma possiamo intuirlo, quello che c'è dietro un atteggiamento o una situazione di vita. Intuire, comprendere come farà il secondo protagonista di questa storia, la seconda persona, il secondo animale che la lumaca incontrerà. Intuire che c'è qualcosa di più dietro alcune richieste. Ed è lì, vedete, che può sbocciare l'educazione come accompagnamento. Altrimenti rischiamo sempre di essere troppo ripiegati su una educazione della fede che in realtà potrebbe tranquillamente essere tradotta con una informazione alla fede. Ti dico ciò in cui devi credere. Però sappiamo che educare e informare sono due pratiche completamente diverse e che hanno scopi e fini completamente diversi. Noi non siamo nell'ottica di chi deve informare la fede, siamo nell'ottica di chi deve educare la fede. Quindi è necessario che alcune attenzioni pedagogiche non solo le comprendiamo ma le facciamo nostre. Come possiamo intendere allora un percorso di accompagnamento, di educare come accompagnamento? Far comprendere che non si conclude un percorso ma che inizia un'altra tappa. Cioè in ogni esperienza educativa che proponiamo non diciamo già la fine di quell'esperienza. Catechesi per la prima comunione. Stiamo già dicendo che finisce. Diciamo che anche da un punto di vista linguistico, da un punto di vista di proposta dell'offerta formativa, facciamo comprendere che siamo in un percorso che ha delle tappe, che ha dei diversi momenti, no? In cui possiamo condividere diverse esperienze. Poi far maturare una scelta più libera dell'impegnarsi in un servizio ecclesiale e in una scelta vocazionale, perché questo poi è il fine dell'educazione alla fede. Rafforzare il senso di appartenenza. Ecco tre conclusioni che vi lascio e che lascio come conclusioni aperte rispetto a quanto condiviso con noi. Grazie dell'ascolto. Bene, siamo arrivati quasi al termine di questa puntata. Bella piena Don Pasquale. Il tema dell'educazione qua potremmo andare ininterrottamente avanti per 48 ore. Sì, però ci dobbiamo fermare, dobbiamo permettere il setaccio, il vaglio di tutto quello che abbiamo detto. Ma ti faccio una domanda che è più una curiosità, no? Quando hai detto prima parlavi del seminare, dobbiamo seminare sempre, insomma è ovviamente bene, ma questi giovani che camminano insieme poi agli educatori, no? Il cammino si fa insieme. Non corrono il rischio di essere troppo pieni questo sacco, non deve essere tanto pieno. Dobbiamo lasciare anche un po' di spazio vuoto per metterci qualcosa di diverso, ovviamente di personale. Sì, ciascuno in base alle proprie disponibilità e anche in base alle proprie predisposizioni. Ecco, dobbiamo fare in modo di non essere né troppo pieni noi, né di voler dare troppo agli altri. Il desiderio si incentiva, si nutre della mancanza. Quando manca qualcosa il desiderio cresce. Quando noi abbiamo la fretta, ecco, di dare delle risposte a domande che ancora non ci sono state poste, non facciamo un buon servizio all'educazione. Quindi incentivare il desiderio di chi ci sta davanti, anche incentivando la mancanza. Bella questa. L'ho fatta apposta questa domanda. Per tirarti fuori, ecco, questa magnifica risposta. Sì, noi andiamo sul sicuro con Don Pasquale Pi, ovviamente ogni domenica. E anche domenica prossima ci ritroviamo insieme. Don Pasquale, non ci resta che augurare buon cammino a tutti gli educatori, a tutti i catechisti, ai genitori, agli insegnanti, ai sacerdoti che accompagnano parecchio i giovani oggi, dando l'esempio. A tutti quelli che si sentono coinvolti in questa grande barca che è l'educazione. Grazie a voi per averci seguito, grazie Don Pasquale. Grazie a te e buona domenica a tutti. Grazie a te e buona domenica a tutti.